ciao ragazzi bentornati a questa puntata numero 5 oggi ci alleniamo a corpo libero insieme a federica e sono 40 secondi di lavoro 10 secondi di recupero per un totale di 10 esercizi abbiamo tre secondi alla partenza preparatevi il primo esercizio sono dei piegamenti braccia con il tocco ingrociato delle spalle pronti a partire prossimo esercizio abbiamo da fare tre movimenti a squat una volta arrivati a tre facciamo un jump ciao Il prossimo esercizio abbiamo da fare uno skip facendo il movimento ad Arnold press. A presto! Adesso sedetevi a terra, appoggiamo le mani e facciamo una piccola camminata avanti e indietro. Granchio! Ok, come prossimo dobbiamo fare uno squat completo. Quando saliamo, mandiamo sulle braccia. Buono! Perfetto, adesso dobbiamo fare un movimento di affondo. Ok? E quando si salta, bisogna incrociare col microcinocchio. Buono! 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 Perfetto, stesso lavoro, cambio lato, ricordatevi che è importante quando saliamo l'incrocio e chi ce n'ha salti. Adesso andiamo a fare una tenuta a plank normale con le gambe molto larghe, andando a mettere una mano dietro la schiena e poi l'altra mano dietro la schiena. Grazie per la visione! Penultimo esercizio mountain climbers, stiamo a plank sulle mani e le ginocchia sotto vanno a skip. 3, 2, 1... Grazie a tutti! Siamo arrivati all'ultimo esercizio. Inizio dobbiamo fare skip con le gambe un po' larghe, 5 secondi di skip e un barfis. Wow! Grazie a tutti! Bene! Stop! Allenamento concluso, bravi, dovreste avere adesso il battito molto alto, recuperato ovviamente e ci vediamo alla puntata numero 6.